Sono trascorse poco più di due settimane dalla grande manifestazione popolare organizzata indetta dal comitato civico patrimonio termale di Sciacca per commemorare più che celebrare il nono anniversario dalla chiusura degli impianti termali decisa dalla regione dell'allora governo guidato da Rosario Crocetta. Una grande manifestazione che ha un po' rispolverato l'orgoglio della comunità saccenza e che ha invocato maggiore attenzione nei confronti di questa risorsa che è la storia stessa della città di Sciacca, perfino nel suo nome. Ebbene bisogna evidenziare che da quel giorno non c'è occasione pubblica in cui il Presidente della regione non dica qualcosa, non faccia qualche promessa, non rivendichi il lavoro che sta svolgendo. Da un certo punto di vista è possibile anche dire che il Presidente abbia avvocato a sé le deleghe di due dei suoi assessori, ovvero sia Roberto Di Mauro per l'energia e le acque nella fattispecie e Marco Falcone per quanto riguarda invece le finanze. Davvero siamo di fronte a una svolta nel senso di un governo, di una politica regionale che finalmente sembra, uso il condizionale perché l'esperienza ci insegna di essere prudenti, però sembra aver preso di petto il problema e tra l'altro anche il fatto che il Presidente abbia avvocato un pochino a sé queste competenze assessoriali è un po' quella cabina di regia che noi abbiamo sempre come comitato, abbiamo sempre richiesto per ricondurre ad unità tutte le competenze regionali che sono estremamente frazionate e che quindi un frazionamento che di per sé costituisce già un ostacolo burocratico, quindi anche in questo senso e poi questo attivismo, questa quasi convinzione della voce con cui esprime questa cosa ci lascia ben sperare. Finalmente a Sciacca è venuto fuori che abbiamo un istituto tecnico per il turismo. Dico perché è venuta fuori questa cosa? Perché io credo che la popolazione non sia veramente consapevole. L'indirizzo turistico nasce dieci anni fa, quindi il nostro desiderio dal momento in cui mettiamo su questo nuovo indirizzo e con tutto quello che comporta burocraticamente era appunto quello di creare una nuova connessione tra scuola e territorio. Diciamo che la maggior parte dei nostri studenti, finito il percorso, nessuno decide di fare scienze turistiche all'università. Quando il comitato per le terme è arrivato a scuola, con mia grande gioia, e io questo lo ribadisco, lo dico e lo dirò sempre, perché i giovani studenti non hanno contezza di che cosa siano state le terme a Sciacca, ma alla fine di questo incontro si sono chiesti, ma che senso ha parlare di terme e di turismo, quando noi siamo un indirizzo turistico e non siamo mai stati né presi in considerazione dal territorio, né tantomeno abbiamo mai avuto la possibilità di confrontarci attivamente con il territorio. Perché se noi parliamo di terme, dobbiamo capire che l'importanza delle terme e del nostro stabilimento nasce dalla questione acque. Se non abbiamo le acque, di che cosa stiamo parlando? Se non abbiamo i fanghi vaporosi, ma di che cosa stiamo parlando? Possiamo parlare, come era stato detto ultimamente, in un bando che è sempre stato sottovalutato, ma che ha avuto l'attenzione della Commissione Attività Produttive del Comune, di incontrarci, durante il quale fare dei, io le ho chiamati sempre, dei lotti funzionali, perché queste benedette terme possono ripartire solo se li mettiamo in gruppi. Gestire tutti questi beni, dall'ex convento di San Francesco, passando per il teatro, per le piscine al coperto, per quelle molinelli, per lo stabilimento termale, il Grand Hotel, gestire tutto questo insieme e cercare un unico affidatario, a me sembra velletario, a meno che, dico, la Regione non avesse qualche interlocutore di particolare rilevanza internazionale che non si è mai visto. Non essendosi mai visto questo tipo di interlocutore, io ritengo che invece, in qualche modo, frammentando gli interessi, si possa riuscire più in fretta e in maniera più efficace a raggiungere un qualche risultato, quale, non so dirlo, a a Grazie a tutti